Tu sei? Io? Ok, Rosalba Lanuto, ho perso mia mamma nel bus a Irpinia, avevo mia figlia miracolosamente viva e voglio solo dire che abbiamo tanta rabbia perché non c'è giustizia, vabbè è stato già detto, perché i nostri cari non sono morti né per destino né per fatalità, ma sono morti per colpa delle persone, incompetenti, non fanno il loro lavoro adeguatamente e non abbiamo riscontri, mia figlia di dieci anni, l'unica cosa che mi disse, mamma se non andavamo giù tutto questo non succedeva, quindi ci vogliono i colpevoli, io mi sento più arrabbiata con la legge, con questa giustizia che non viene fatta, persone vengono processate, passate, mettiamoli subito in galera, fine processo, se questa persona non ha colpe la liberate, ma non che loro devono essere liberi di vivere la loro vita fino alla fine del processo che sarà fra 10, 20, 30, non sappiamo, perché queste leggi non vengono applicate, non vengono fatte, non mi spiego, noi siamo arrabbiati con lo Stato, più che con chi è scolpevole, perché queste persone lavorano così, fanno tutte queste cose così superficiali, perché è la legge che è sbagliata, io do un mio parere, una mia... cioè questo è il mio pensiero, perché negli altri paesi li arrestano, hai fatto questo reato, poi si vedrà se sei colpevole, se non sei colpevole, se sei colpevole rimani in galera, se non sei colpevole vai a fare la tua vita, ma no, a noi ci hanno rovinato la vita dei nostri cari, la nostra vita, la nostra vita si è fermata quel giorno, la loro sta continuando, le autostrade non si sa niente, noi le autostrade le paghiamo quando ci andiamo su, queste cose non devono succedere, e non dire vabbè tanto non succede niente, tutto può succedere in un attimo. D'accordo, grazie.